La cantante romana Noemi è stata ospite della quinta puntata del Giallappa Show. Durante l'intervista ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita, tra cui la sua trasformazione fisica, che l'ha portata a perdere 15 chili. Noemi ha spiegato che la sua decisione di dimagrire è stata dettata dalla necessità di ritrovare se stessa. Grazie a un regime alimentare chiamato Meta, che combina nutrizione, movimento, supporto psicologico e rieducazione comportamentale, che ha raggiungere il suo obiettivo. La cantante ha sottolineato l'importanza della corretta alimentazione, con una colazione varia che può includere uova, bresaola, prosciutto cotto, pancakes, frutta secca e yogurt. Per lo spuntino di metà mattina opta per un frutto di stagione o uno yogurt. A pranzo Noemi predilige piatti completi e leggeri, come un'insalata con semi, frutta, formaggi magri e uovo, oppure un toast con centrifuga, yogurt, frutta secca e cracker. A cena, solitamente sceglie un primo piatto con contorno e, se necessario, si concede una tavoletta di cioccolato come dessert. Inoltre, Noemi ha attribuito parte del suo successo al metodo di allenamento Tabata, un'intensa forma di esercizio cardiovascolare ideale per bruciare grassi e migliorare la resistenza fisica. Durante la trasmissione, la cantante ha lanciato un messaggio contro le false notizie e i prodotti miracolosi, sottolineando l'importanza di affidarsi a professionisti e seguire un percorso ben strutturato per raggiungere i propri obiettivi di senato.